Polifonico 2016, martedì 23 agosto. Giornata speciale dedicata al canto armonico con un personaggio italiano molto importante che è Lorenzo Piero Bon che farà un seminario alle 16 aperto a tutti con un'iscrizione di 30 euro. Il seminario è alla Fondazione Guido Arezzo dalle 16 alle 18 e poi il seminario prosegue dalle 18 e 15 alle 19 aperto a tutti nella chiesa di San Michele. Però iniziamo la mattinata con Cesare Ganganelli, un giovane musicista di Sansepolcro che ha fatto uno studio su Francesco Corradini, ce lo illustra nell'inizio della giornata su Buongiorno Polifonico, tutte le mattine come sapete alla Fondazione Guido Arezzo dalle 9 alle 9.45 si parla di musica, si beve un caffè, si fa colazione, si ascolta giovani musicisti che parlano di musica. Proseguiremo alle 14.30 con l'intervista al maestro norvegese Ragnar Rasmussen, poi dalle 16 per chi vuole ci sarà questo corso di canto armonico, è un corso di un canto particolarissimo tipico del mondo orientale, dei monaci tibetani che viene illustrato e poi verrà anche eseguito durante il concerto delle 21 a San Michele, sempre da Lorenzo Pierobon. Chiuderemo la serata con Polifonico Off nel giardino della Fondazione Guido Arezzo con il quartetto di ottoni Rasenna Brass.